Io vorrei diventare un campione. Io da grande vorrei fare l'attrice. Io vorrei avere un bel sorriso. Io vorrei una bella cuccia. Affidaci i tuoi sogni. Luciano Centomo Arredamenti. L'uomo mobile è solo a Grezzana di Verona. L'uomo mobile propone nuovi arrivi al miglior prezzo. Al miglior prezzo. Yeah! Aaron, l'uomo mobile è solo a Grezzana di Verona. Chiaro? Grazie a tutti.